Il Superbonus è appena partito, è una misura io definirei storica, dentro di sé ha una cosa molto importante, cioè la cessione del credito al sistema bancario, battaglia storica del Movimento 5 Stelle. Noi per cinque anni in opposizione, in Parlamento, abbiamo sostenuto che questa cosa era possibile. Per fortuna quest'anno se ne sono convinti anche i burocrati europei ed è una misura che riattiva tutto il settore, la filiera, tutti. Quindi fa veramente economia. È appena partita, è molto corposa, quindi ci abbiamo messo un attimino, ma meno di quanto solitamente fa la politica per scrivere i decreti attuativi. Durerà anche su tutto il 21 e un petto del 2022, il restante sarà finanziato con il recovery fund.